Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Ina 11 rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Ina 1 personale su strada per lavori tra Sasso Marconi e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Sulla Fipili prestare attenzione per una perdita di carico accidentale avvenuta allo svincolo di Empoli Est in entrata in direzione Mare. Sulla statale 1 Aurelia tratto chiuso per lavori tra Stagno e Quercianella in direzione Roma, chiusi gli svincoli di Porta a Tevra e Livorno Centro. Sulla statale 3 Bis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo dissestato tra Canili e Valsavignone. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!